Insieme, come dicevamo, ma insieme nel vero senso della parola perché a rallegrare le nostre mattinate ci sono le vostre foto, quelle che ormai di default inviate al nostro numero WhatsApp che leggerete tra qualche istante in sovrimpressione, il 3317378033, un numero che molti di voi hanno registrato sui propri dispositivi e quindi con molta facilità potete utilizzare come quando mandate un qualsiasi messaggio WhatsApp ai vostri cari, solo che nel nostro caso, ecco, si tratta tante volte di foto o di brevi video ai quali però non dovete dimenticare di aggiungere magari proprio nella didascalia della foto il vostro nome e da dove ci state scrivendo. Ha fatto proprio così, hanno fatto proprio così i primi amici che ci hanno raggiunti appunto con le proprie cartoline ecologiche, espresse ed economiche perché non costano nulla, l'hanno fatto così in ordine di apparizione sui vostri schermi, Roberto da Torino che ci invia un augurio di buon weekend attraverso questo scatto sull'arco di Augusta ad Aosta, grazie Roberto, è sempre un piacere ritrovarti e poi un grande cuore, quello della Romagna, ci giunge da Stefano D'Agatteo Ammare, anche Stefano un nostro graditissimo telespettatore che ci segue sempre e poi un omaggio floreale che ci invia Valentina, grazie salutandomi, grazie Valentina, è un piacere anche per me ritrovarti e chiudiamo questo primo blocco di foto con uno scorcio da Napoli che ci invia Carmela e il Borgo Marinaro, veramente una foto anche questa molto molto bella che ci fa respirare proprio aria di weekend, continuate a inviarci le vostre foto quindi al 331-737-8033 perché senza dubbio ci aiuteranno a vivere meglio questo sabato di Just Today insieme. Come dicevamo in apertura, in premessa, il sabato di Just Today è quello anche di una nostra inviata super speciale, Sor Maria Vittoria che ci ha accompagnato già qualche settimana fa, la scoperta del suo ordine, quello delle suore apostole di Gesù Crucifisso e che nelle prossime settimane, lungo ogni sabato, ci farà conoscere appunto quali sono gli altri ordini delle consacrate che vivono intorno al mondo di Padre Pio. Però ancora oggi ci soffermiamo sul suo ordine perché con l'intervista alla Madre Superiore Generale, Sor Maria Saveria Parmisano, ci faranno conoscere il rapporto che è molto particolare che c'era tra Padre Pio da Pietrelcina e il loro fondatore, Don Domenico Labellarte. A te la linea, Sor Maria Vittoria. Buongiorno a tutti, grazie Toni. Ecco, ci troviamo nuovamente nella casa delle suore apostole di Gesù Crucifisso con la Madre Generale, Madre Maria Saveria. Ecco, a volta scorsa abbiamo parlato del nostro fondatore Don Domenico Labellarte e del tuo incontro con lui e come è iniziato tutto il tuo percorso, no? E questa avventura della nuova fondazione che nasceva. Oggi vogliamo approfondire un po' questa figura di Don Domenico Labellarte del suo incontro con Padre Pio, della sua amicizia spirituale, della sua figliolanza spirituale con Padre Pio. Madre, com'è cominciato tutto? Com'è cominciato questo incontro? Ecco, questo incontro con Padre Pio è iniziato con un fiasco, possiamo dire, che con una sofferenza che il Padre ha provato. Quale sofferenza? Quella che gli impediva di continuare gli studi per diventare sacerdote. E stando nel collegio Capranica, lui ha avuto un deperimento organico, eravamo durante la seconda guerra mondiale e quindi non riusciva più a sostenere gli studi anche perché fisicamente non era più forte sia per mancanza di cibo, sia perché abitava in una stanza un po' umida, poco soleggiata. E quindi tanti fattori che lo hanno portato nuovamente ad ammalarsi. E quindi il rettore del tempo, Monsignor Solari, disse figlio mio non è per te, torna a casa. E quindi questo grande dolore lo ha accompagnato, ha preparato tutte le sue valigie, ha preso il treno con tutte le valigie da Roma fino a Bari perché lui è nato a Valenzano, provincia di Bari e nel percorso si ricorda di Padre Pio. L'avevamo un po' detto l'altra volta di questo. Ma quando arriva da Padre Pio, lui era il 2 febbraio. Oggi celebriamo la giornata per la vita consacrata, il giorno della presentazione di Gesù al Tempio. E lui piccolo piccolo si sentì un po' presentato al Tempio, nella persona di Padre Pio. E nella confessione gli disse padre sarò sacerdote, sarò missionario. E Padre Pio che lo guardò, lui dice, il nostro padre Don Domenico, aveva visto degli occhi bellissimi, profondi, intensi, che l'hanno guardato fino in fondo e gli hanno detto sì, sarai sacerdote e sarai missionario. Gli dai consigli, vai a casa, curati, prendi questo, mangia la frutta e poi fra due mesi torna in collegio. E così avvenne. Il padre tornò in collegio, si pose di nuovo un impegno, con l'impegno a studiare e superò tutti gli altri nel superare gli esami, nel sostenere gli esami. E quindi quello per lui fu una prova tangibile della potenza di un padre che aveva trovato, Padre Pio. E quindi quello è stato il primo incontro, ma poi c'è stato l'altro incontro, quello molto forte, è avvenuto il 22 agosto del 1943, perché è lo stesso anno, quando Padre Pio gli dice tu, figlio mio, hai qualcosa da dirmi. Ma padre, mi sono confessato. No, 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 tu hai qualcosa da dirmi. Per tre volte. E il padre poi si ricorda di quell'ispirazione che aveva avuto nel maggio precedente nel collegio Capranica. E Padre Pio dice non sei tu, è Dio che lo vuole. Ma padre, cosa devo fare io? Sono un ragazzo, aveva appena 21 anni. E io che ci sto a fare? Ecco, in quell'io che ci sto a fare, Padre Pio aveva preso a cuore, aveva preso a cuore lui, la sua persona, la sua vocazione e la sua missione di fondatore. E così poi Padre Pio gli ha dato dei consigli, comincia dal collegio Capranica e lì poi con altri seminaristi, altri compagni, formò la Lega della Fraternità, erano in 17 e lì si davano da fare sia nella preghiera che nelle opere di carità. Per esempio a Campo dei Fiori, a Roma, a soccorrere i poveri, gli ammalati. a mettere da parte lui specialmente qualcosa per le missioni, perché aveva anche un grande desiderio di essere missionario. Pensavo alla Cina addirittura. Ecco, questo è stato l'incontro che poi ha favorito una vita di figliolanza con Padre Pio con Padre Pio, perché... Ecco, madre, vorrei chiederti quale eredità ha lasciato Padre Pio al nostro padre fondatore? Cosa di più lui ha cercato di mettere in vita? Cosa ha imparato di più da Padre Pio? Beh, innanzitutto la sua spiritualità. Da Padre Pio ha imparato la semplicità, quell'essere francescano proprio nella semplicità, nell'accoglienza, nell'ascolto e il Padre Don Domenico nelle mani di Padre Pio fece la sua professione come terziario francescano e chiamandosi Domenico Pio ecco e nelle mani di Padre Pio fece anche i suoi voti di castità, di povertà e di obbedienza ancora prima di essere sacerdote quindi nel nel giorno dell'Epifania nell'anno 1945 più o meno credo ecco e e cosa ha imparato? Ha imparato ad amare di più Gesù Crocifisso ad amare di più soprattutto il sacerdozio a vivere il sacerdozio da Padre Pio la Santa Messa ma anche il Ministero della Riconciliazione Padre Pio lo ha esercitato in questo anche qui a San Giovanni Rotondo perché devi sapere che i primi tre anni di sacerdozio il Padre le ha vissuti qui a San Giovanni Rotondo quindi ha fatto un tirocinio perché cosa faceva quando stava qua a San Giovanni Rotondo? cosa faceva? faceva esattamente quello che gli diceva Padre Pio ecco il tirocinio Padre Pio da buon educatore non solo padre ma buon educatore gli diceva senti ci sono i poveri tu vai a Roma e li mandava da alcuni conoscenti amici benestanti e prendi tutto quello che ti danno e quindi anche vestiario cibo li portava qui a San Giovanni Rotondo e li distribuiva alle famiglie povere chiaramente che indicava lo stesso Padre Pio oppure andava dai minatori nella miniera di Bauxite che si trovava giù nelle mattine vicino Manfredonia credo da queste parti giù dal Gargano e quindi lì evangelizzava e poi lo mandava a confessare in paese tante persone che non potevano salire oppure perché c'erano troppe prenotazioni per Padre Pio e il padre confessava lì e anche mandava il padre ad assistere le persone malate le agonizzanti alcune figlie spirituali figlie spirituali di Padre Pio erano assistiti dal padre ecco e infatti proprio qui a San Giovanni Rotondo quando un bel giorno il padre Padre Pio gli disse voglio ma ti vuoi dar da fare padre che cosa devo fare sto facendo tutto questo ma quando cominci questi istituti no queste istituzioni cioè ma io non so come fare ho difficoltà non conosco non so come devo reclutare le anime che non si tratta tanto di reclutare e il Padre Pio gli diede un segreto nella confessione quando tu senti che viene una persona no un'anima specialmente donne che senti che c'è il profumo della castità quella è l'anima da legare a Dio da consacrare a Dio e così ha cominciato qui a San Giovanni Rotondo le prime consacrate ecco Padre Pio veramente è stato per lui un educatore oltre che un padre ma educatore non solo nell'esercizio del ministero sacerdotale ma un educatore anche per quanto riguarda l'offerta della sofferenza di non portare profondo il solco del dolore ecco e quando per esempio era assalito da tante occupazioni che non riusciva fino a mezzanotte non riusciva ancora aver terminato le sue preghiere d'obbligo e Padre Pio lo richiamava metti ordine perché l'ordine salverà te oppure quando lui si lamentava perché di nuovo in un periodo quando era parroco di nuovo gli era avvenuto questo esaurimento così e Padre Pio gli disse voglio ma tu tu stai soffrendo cioè pensa a me no? voleva dire tu stai soffrendo non è stad mortem non è per la mort coraggio quindi gli ha insegnato anche ad affrontare le difficoltà a saper offrire la sofferenza come faceva lo stesso Padre Pio e quindi gli ha insegnato l'umiltà l'umiltà del confessore e quale a mio avviso un bel giorno Padre Pio era il primavera il 21 marzo gli disse mi vuoi confessare Domenicuccio padre proprio io sì sì proprio tu e Padre Pio si confessò dal Padre anche questo questa umiltà che Padre Pio ha voluto testimoniare ha inciso nel cuore del giovane sacerdote ma anche del Padre anche la pazienza e soprattutto la misericordia grazie 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 Tony passiamo linea allo studio veramente madre grazie di questo tempo che ci hai dedicato grazie a voi e grazie anche a TV Padre Pio per questa occasione che mi hanno dato grazie ancora molto bella la testimonianza di Sor Maria Saveria Palmisano madre superiore generale dell'ordine apostolo di Gesù crocifisso e grazie a Sor Maria Vittoria per questo suo impegno con Padre Pio TV siamo veramente felici e curiosi di scoprire poi settimana prossima quale sarà il nuovo ordine di consacrate che ci farà conoscere ora ci fermiamo soltanto un attimo ma ritorniamo subito insieme grazie a tutti